Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Scopriamo insieme oggi, quello che facciamo ogni settimana, un souvenir digitale. Ma cosa sono questi souvenir? Sono quelle tecnologie, quei software, quei gadget, quegli strumenti, applicazioni che possono cambiare in meglio la nostra vita o il nostro lavoro nel mondo digitale. In particolare, cosa c'è di meglio? Cosa può cambiare in meglio la nostra vita professionale se non un maggior livello di sicurezza? La protezione degli strumenti del nostro lavoro. E sì, perché se da una parte è molto bello investire nei computer superpotenti, nelle strumentazioni che ci aiutano a fare il nostro lavoro, dall'altra parte questi qua sono anche dei beni materiali che in qualche modo vanno protetti. Vanno protetti dalle intrusioni, vanno protetti da coloro che ce li vogliono rubare, vanno anche monitorati e sorvegliati quando siamo lontani dalle zone in cui lavoriamo. E' proprio per questo che un carissimo amico st'estate è venuto da me e mi ha detto Giulio, ma cosa mi consigli per proteggere la mia casa? Vedo che ci sono queste telecamerine che si possono installare molto semplicemente. Allora abbiamo fatto insieme una ricerca e abbiamo scoperto le telecamere Arlo. Ho condiviso questa scoperta sul Digital Mastermind e uno dei miei compagni di Mastermind, Alessandro Bitt, essendo un esperto di sicurezza, un esperto di sistemi d'allarme e manutenzione di questi sistemi, mi ha dato un sacco di informazioni utili. Allora gli ho detto dai Ale, vieni a raccontarle alla community di strategia digitale. Oltretutto sei un produttore del podcast, per cui lo facciamo insieme realmente questo podcast. E così Alessandro ha accettato, ce l'ho lì in caldo in un furgone ad aspettarmi per fare insieme una bella chiacchierata e quindi non voglio dilungarmi oltre ma voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove venire per iscrivervi al podcast, seguire il backstage del podcast sul nostro canale telegram.me slash strategiadigitale oppure anche semplicemente per lasciare una recensione, c'è un tutorial che spiega come fare o inviare le vostre domande. Bando alle ciance ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare Alessandro Bari, di scoprire insieme Arlo e come difendere il nostro ufficio dalle intrusioni. Il souvenir digitale Alessandro Bitti, il nostro esperto di sicurezza. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao Giulio, grazie mille. Allora Alessandro, per iniziare alla grande raccontaci un po' chi sei e che cosa fai nella vita. Allora, io sono un installatore. Riparazioni, installazioni di nuovi impianti o riparazioni e manutenzioni, impianti antenne, antifurti e impianti elettrici. Tutto ciò che è la cura di un'abitazione, dell'assicurazione di un'abitazione o elettrico di un'abitazione, noi lo facciamo. Parliamo di Arlo. Arlo è un sistema video per la videosorveglianza e ha una particolarità, almeno da quello che ho potuto osservare io, che l'ho consigliato, ho fatto un pochino di ricerche e l'ho consigliato a un mio amico che voleva proteggere la propria casa prima delle vacanze estive. La particolarità è che è completamente wireless, nel senso che dentro le telecamerine da installare nei vari punti della casa sostanzialmente c'è una batteria, ma una batteria che dura tipo quattro mesi, una cosa fenomenale. Infatti non riusciamo bene a capire se effettivamente ci avevamo visto bene sulle specifiche tecniche. Sì, dura effettivamente parecchi mesi e in abbinamento a queste telecamere che comunicano attraverso la rete wifi con una base, con una centralina, in abbinamento a loro c'è appunto questa centralina che è un po' il cervello, cioè prende le immagini dalle varie videocamere e le manda su internet mettendole in comunicazione con te dovunque sei attraverso i tuoi device mobile. Mi dai la tua visione da tecnico rispetto a darlo prima di tutto? Raccontami un po' come tu vedi questo prodotto. Allora, intanto è un prodotto fai da te, cioè nel senso tutti i privati possono installarselo tranquillamente da soli. Secondo me è una figata pazzesca perché non c'è nulla di simile, non c'è veramente nulla di simile. Te potresti andare a servire anche un'abitazione in montagna, priva di corrente, ovviamente devi avere internet, quindi hai una schedina tua, che ne so, GSM con la saponetta per crearti una rete tua e riesci a vedere cosa accade nella baita, in una roulotte, in una situazione decisamente difficoltosa da proteggere normalmente. Poi per le abitazioni normali comunque è una figata pazzesca perché ha una flessibilità all'installazione allucinante per via delle telecamere, per via del loro raggio d'azione come wireless, ha una flessibilità che non ha pari. Resta comunque un prodotto da privati, cioè non si può considerare un prodotto professionale. Ecco, cerchiamo di capire la differenza tra queste due categorie di prodotto e come mai esiste un mercato di privati nel momento in cui la priorità in realtà è la protezione della casa. Quali sono le differenze tra un prodotto da privati e un prodotto professionale? Allora, il prodotto professionale viene progettato e gestito in modo che sia inviolabile. Diciamo che già una telecamera wireless di per sé non è inviolabile, cioè nel senso io posso disturbarla e non gli permetto più di trasmettere alla centrale. È possibile disturbare un segnale wireless e non permette di più di raggiungere la centrale e quindi non registra più nulla, cioè non invia più le sue immagini. Ma è una possibilità, diciamo, teorica e pratica, ma che la fa Arzegno Lupin? Ecco, no, è una possibilità. Allora, generalmente il tipico topo d'appartamento cerca di entrare, se suona l'allarme il 90% scappa, già se vede delle telecamere, comunque in genere preferisce andare dove non ce ne sono, quindi fa da deterrente. È una possibilità remota, però quando tu fai un impianto professionale ne devi tener conto. Se invece tu fai una protezione da solo, questa qui è uno spettacolo, cioè perfetto come oggetto quando fai una protezione da solo, da privato. Intanto per i costi, perché un impianto professionale parte da cifre decisamente superiori a quanto costa l'intero kit qua con le quattro telecamere. Diamo qualche cifra, per esempio un impianto professionale da quanto parte? Vabbè, diciamo che con quattro telecamere spendere meno di 3.000 euro è difficile. Ok, qua stiamo parlando di 700-800 euro più o meno. Sì, e te lo piazzi da solo. Diciamo che l'unica pecca potrebbe essere quella, però attenzione, io non ho mai visto nessuno che si metta a disturbare il segnale wifi per poter entrare, cioè piuttosto evita la casa, cioè non mi è mai capitato di sentire questa cosa. Solo che se tu vai a chiedere, ma mi va bene per proteggere la mia casa, è un impianto professionale? No, cioè se è wireless non lo puoi considerare un impianto professionale. Tutto qua. Per il resto, secondo me, è veramente spettacolare. Ok, infatti a conferma di quello che tu stesso dici, in realtà la comunicazione di questo prodotto ti porta a vedere che è un modo di tenere un occhio sui tuoi cari, sugli animali d'appartamento, sui visitatori, sul business, lo small business. Diciamo che potrebbe essere, la dà più come, che ne so, una telecamera da installare nella sala d'aspetto del dentista per permettergli di vedere comunque su uno schermo mentre lavora se succede qualcosa di là. oppure per tenere un occhio mentre sei fuori casa e vedere se il cane intanto ti divora il divano o fa cose di questo genere. Non la dà proprio come una soluzione antiladro. Sì, la dà, diciamo, in maniera abbastanza velata come una situazione per proteggere dagli attacchi esterni. Infatti, uno dei video che ho visto molto carino e Arlo ha questa funzione che altre telecamere non hanno è un video in cui si vede il postino che suona alla porta e la telecamera Arlo che lo inquadra, la bambina al piano di sopra che gli dice sì, sì, lasci pure il pacco fuori dalla porta, lo vengo a prendere dopo. e la telecamera parla, insomma, ha una funzionalità che ti permette dallo smartphone di inviare un messaggio vocale in tempo reale, di ascoltare quello che la telecamera è in grado di captare, quindi parlare attraverso la telecamera alla persona che viene inquadrata. Questo filmato che rappresenta una scena di vita quotidiana, come il postino, come la possibilità di avere naturalmente su una piccola casa, una villetta schiera e non su un palazzo di dieci piani, però ti dice, la dice lunga già su come questo prodotto si vada a porre su un segmento che non è proprio la sicurezza ma più la possibilità di mantenere un piccolo controllo. Ma Alessandro, facciamo una cosa, visto che tu sei un esperto di questi temi, raccontami un attimo dal tuo punto di vista come si struttura una strategia di messa in sicurezza di una casa o di un qualsiasi altro ambiente, anche lavorativo. Allora, la protezione di una casa, io la vedo, faccio sempre un esempio, la tua casa è come una bacinella d'acqua, e tu vuoi proteggere l'interno, quindi l'acqua. Le tue finestre sono dei buchi e tu per evitare di perdere l'acqua, le finestre e le porte, per evitare di perdere l'acqua, cosa puoi fare? Puoi mettere dei tappi. E i tuoi tappi sono, ad esempio, le inferriate, perché la protezione della casa, la prima cosa da fare quando vuoi proteggere la tua casa, i tuoi beni, i tuoi figli, i tuoi cari, la prima cosa è una protezione meccanica, e quindi proprio evitare, rendere difficile l'ingresso a un ladro. Questo viene prima di una protezione elettronica, la protezione elettronica viene associata a questo, perché la protezione elettronica, nell'esempio, sono i sensori, i sensori che vanno a vedere quando qualcuno sta rovinando i tappi, o sta asportando, tentando di asportare i tappi, quindi per prelevare l'acqua. Quindi l'antifurto, ma come le telecamere, ti avvisano che qualcuno sta cercando di rubare. Non lo fermano di per sé. Quindi da lì può nascere, può nascere, che ne so, l'evento, chiamo la polizia, torno a casa di fretta, può nascere un'altra azione. Allora, l'associazione delle due cose, invece, in ferriato, è protezione meccanica adeguata e sensoristica, quindi antifurto. L'unione di queste due cose ti permette di evitare l'ingresso del ladro, perché se non metti un sensore, se non metti l'antifurto, lui ha tutto il tempo di asportare anche un'inferriata, anche una buona inferriata. Dipende com'è la posizione della casa, quanto è nascosta la finestra, eccetera. L'unione dei due rende invalicabile, diciamo, l'esterno, rende inaccessibile la casa. Ecco, diciamo che questa qua... Quindi è come se dovessimo ragionare su dei layer diversi, quindi, diciamo, non è che uno è alternativo all'altro. O le inferriate, è inutile mettere la videocamera, o la videocamera, è inutile mettere l'allarme. È un po' come se fossero degli strati che si vanno a sovrapporre l'uno all'altro e che proteggono la casa. Però, diciamo, collaborandolo l'uno con l'altro. Sì, di fatto, io personalmente farei prima la protezione meccanica, poi la protezione elettronica e poi le telecamere, cioè per la visione, in modo tale che prima vengo avvisato e vedo se stanno entrando, dove sono i ladri, in quale punto. E poi ho la possibilità, dopo aver ricevuto un'allarme, ho la possibilità di andare a verificare con la telecamera che cosa è accaduto, ho le registrazioni, da dove sono entrati, o addirittura guardare il viso di chi è stato per sporgere le denunce, eccetera. Ok. Vedo che sei sempre in giro per ville fantastiche a fare le manutenzioni. Oggi stesso, ora sei dentro il furgone, hai dato la tua disponibilità per fare questa chiacchierata tra una manutenzione e l'altra. Quanto è importante la manutenzione per un sistema d'allarme? Direi che è tutto. Allora, la manutenzione minima, minima storica, sono ogni paio d'anni vanno sostituite le batterie. Tutti gli impianti d'allarme hanno delle batterie. Anche quelli di a filo hanno delle batterie principali che sono quelle della centrale e quella della sirena. Quindi ogni paio d'anni devi sostituirle perché altrimenti da un momento all'altro possono crollare, cioè vanno proprio a zero e in quel caso smette di funzionare la centrale oppure ti manda in corto l'alimentatore quindi fa il danno oppure si gonfiano, si spaccano, perdono l'acido o ancora, che ne so, quando ti va via la corrente parte la sirena fuori immediatamente vuol dire che hai già un problema di batterie. Insomma, nascono dei problemi, nascono dei malfunzionamenti e immancabilmente questo accade quando siete in ferie. Quindi la manutenzione minima è questo cambio batterie più un controllo generale delle zone dell'allarme che può fare l'installatore. Però non è l'unica cosa da fare su un impianto. In teoria chi possiede l'impianto dovrebbe testarlo, non dico settimanalmente, ma almeno mensilmente verificare che funzioni, verificare che arrivino le telefonate, verificare che la sirena suoni, verificare che effettivamente l'impianto funzioni. Magari una volta prova la porta, una volta prova la finestra, oppure se è in grado può tramite la tastiera della centrale allarme fare una verifica delle zone senza necessariamente disturbare tutti i vicini. Però va testato, se non lo vuole fare o non è in grado di farlo il cliente lo può fare l'installatore, è chiaro che ha dei costi. generalmente dovrebbe imparare a farlo il cliente. Ecco, infatti diciamo questo è un tema caldo, uno perché tu stesso come condividevi ieri hai provato sulla tua pelle quanto magari non per l'allarme ma per altri aspetti dell'attività digitale, il backup, è importante lavorare, cioè la vera sicurezza è quella che lavora in forma preventiva, per l'impianto d'allarme può essere la manutenzione che uno dice beh, ora devo perdere un'ora, mezz'ora a fare questo test che vado sempre di corsa è invece proprio quello il momento in cui porti della sicurezza stessa cosa per tutto ciò che riguarda il digital l'altro giorno tu hai perso il backup se non sbaglio del telefono e del computer lo stesso giorno? Sì, no, ho devastato iPhone e Mac nello stesso giorno dell'iPhone ho recuperato tutto tramite iCloud e non c'è problema del Mac invece no perché prima di andare in ferie da bravo elettricista stacco tutto quindi avevo staccato anche l'hard disk di rete dove faceva il backup il mio Mac e quindi non l'ho riattaccato quando sono tornato dalle ferie e ho quel lasso di tempo dove non ho backup quindi il mio backup è più io penso stimolato da te ieri sera ho proprio fatto backup di tutto quindi mi sono e quello è importante bisogna mettere ecco un avviso un reminder magari sul nostro Google Calendar che una volta al mese ci fa mettere una bella musica classica di sfondo che ci rilassa e impieghiamo un'ora prendiamo un appuntamento con la nostra sicurezza e facciamo da una parte il backup dei computer e telefono e dall'altra il controllo dell'allarme senti scherzi a parte per quanto riguarda il controllo dicevi tu stesso è importante che la persona il cliente chi protegge la propria casa possa lui in autonomia provvedere a questo tipo di controlli il fascino di sistemi come Arlo è proprio la semplicità cioè tu fondamentalmente anche il mio amico che non ne capisce assolutamente niente di digitale di nulla mi ha chiesto di andare lì a mettergli la wifi dopodiché è configurato tutto da solo ha attaccato le telecamere che hanno un attacco magnetico quindi molto facile da attaccare ai vari muri ha studiato quale poteva essere l'angolo migliore e controlla tutto dal suo telefono addirittura st'estate mi ha mandato un messaggio su whatsapp dicendo guarda un po' chi ha tentato di entrare e per un secondo si è visto un uccellino passare davanti alla videocamera è stata un'immagine molto carina per quanto riguarda la facilità d'uso arlo sicuramente è semplicissimo da usare semplicissimo da controllare anche semplicissimo in un certo senso da manutenere nel senso che vedi quello che funziona e quello che non funziona per quanto riguarda i sistemi più professionali ci sono dei sistemi che ti danno la stessa qualità dell'esperienza d'uso cioè che non devi andare lì a interagire con i pulsantini le sequenze le cose strane ma puoi fare tutto dallo smartphone no sì praticamente quasi tutti quasi tutti i sistemi adesso li usi semplicemente dallo smartphone senza dallo smartphone senza grandi fatiche ho clienti di qualsiasi età e li usano senza problemi quindi da quel punto di vista direi che non c'è problema quando invece il cliente non ha lo smartphone e quindi non utilizza l'app ma deve andare sulla macchina con il suo bel mouse andare a cercarsi le informazioni andarsi a cercare le registrazioni lì diciamo che chi non è proprio afferratissimo ha un po' di difficoltà però con un po' di pratica ci arriva sai che cosa c'è? c'è che molto spesso i clienti non fanno questa operazione di manutenzione cioè verificare spesso se funziona la registrazione cioè tu anche se hai un sistema molto semplice però se tu mensilmente non vai a vedere un pezzo registrato anche una cioè poniamo che per qualsiasi motivo smette di registrare il sistema te ne accorgi dopo che hanno rubato se non hai mai fatto verifiche e questo capita molto spesso che un guasto capita con tutti i sistemi che se avviene un guasto e nessuno non hanno un piano di manutenzione e quindi nessuno verifica nemmeno il cliente verifica se sta registrando se funziona che ne so l'ultima volta che hanno guardato una registrazione è sei mesi prima li restano restano così a guardare un componente che non va ok quindi il digital ci viene incontro da questo punto di vista ma comunque quello che fa la differenza è l'attenzione come dicevi tu il piano di manutenzione sì perché anche anche utilizzando un'app è tutto molto più semplice però devi utilizzarla cioè una persona che ha poca dimestichezza se lo prende in mano dopo sette mesi probabilmente ci mette un po' di tempo andare a fare alcune verifiche andare a trovare le immagini che gli interessano quindi fare che questa operazione perdere questi dieci minuti ogni mese non è male certo è tutto più semplice con lo smartphone questo è chiaro è chiaro e ultimo punto visto che parlavamo di registrazioni mi hai l'altro giorno quando ti ho accennato di Arlo hai sollevato tutta una serie di normative che esistono in Italia e in Europa sull'utilizzo della videoregistrazione allora ti va di condividere un attimo per permettere a chi io stesso ho installato una videocamera di sorveglianza fuori dal mio studio senza fare nulla semplicemente ci ho messo un cartello dicendo che sto registrando in quella zona e invece ci raccontavi che le cose stanno un pochino diversamente come che cosa prevede la normativa allora noi dobbiamo stare attenti a tre punti cioè codice privacy provvedimenti del garante e statuto dei lavoratori diciamo che tutto è più complesso quando c'è di mezzo un socio o dei lavoratori per lavoratori per quanto riguarda le abitazioni vuol dire anche la badante la donna delle pulizie il giardiniere se sono regolarmente assunti sono lavoratori e quindi tutto diventa molto più complesso restando nel campo delle abitazioni quindi dove Arlo diciamo che lavorerebbe benissimo senza problemi già devi stare attento a diverse cose intanto devi inquadrare la tua proprietà solo la tua proprietà non puoi inquadrare altre proprietà o parti comuni del condominio e già questo se punti la telecamera nel diciamo davanti alla tua porta blindata per intenderci è parte del condominio non potresti farlo detto ciò devi mettere quelli che tutti chiamano cartelli in realtà è l'informativa ed è obbligatoria e ha all'interno deve contenere due informazioni base cioè il titolare del trattamento e quindi nel tuo caso il tuo nome o il nome della tua azienda e la finalità che in generale per una casa privata è tutela del patrimonio patrimonio personale oppure per un'azienda tutela del patrimonio aziendale allora cosa succede il cartello molto spesso viene utilizzato un cartello che vendono già precompilato quindi te non gli aggiungi nient'altro quindi non c'è neanche il tuo nome non vanno bene perché un cartello non idoneo oppure omesso prevede una multa secondo adesso divento palloso secondo l'articolo 161 del codice della privacy la multa va da 6.000 a 36.000 euro per il cartello che non è scritto correttamente fai te 36.000 euro non è roba non è roba da poco ma questo ma anche anche se non prendiamo la multa nel migliore dei casi 6.000 euro neanche lì è poco sì in realtà poi c'è la buona fede e tutto quanto ti danno due quinti dei 6.000 euro se ti va bene però però questo tipo di multa è molto diffusa esempio tabaccaio entrano a rubare fa la denuncia escono i controlli il cartello è quello classico non scritto correttamente lo multano ma lo multano cioè non solo gli hanno rubato lo multano pure sì 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 succede spesso questa cosa quindi diciamo che l'utilizzo di telecamere prevede un'attenzione particolare perché la privacy in Italia insomma ci va pesante allora divulgare le immagini a terzi non è ammesso cioè tu registri per conto tuo guardi per conto tuo però se per ipotesi dici mi hanno rubato guardate questo infame pubblichi su facebook benissimo non c'è problema arresto fino a due anni e la multa da 10 a 120 mila euro ahia cioè qui articolo 167 comma 2 bis codice della privacy quindi fa la luce ci sono altre multe fino a 180 mila euro per la durata delle registrazioni perché secondo il garante della privacy tu dovresti mantenere le registrazioni all'interno del tuo artisc piuttosto che su un cloud eccetera per poche ore poi potresti giustificarle fino a diverse ore fino a 72 ore non è assolutamente ammesso oltre i sette giorni se non con permesso del garante da privacy che praticamente non danno quasi mai perché ci mettono 24 mesi a darti risposta e possono anche omettere la risposta quindi e non c'è il silenzio assenso no no assolutamente no diciamo che nella maggior parte delle abitazioni le registrazioni le tengono tipo 30 giorni senza problemi però dovessero venire a controllare sono tutti in multa in multa come niente ecco questo è importante perché anche su questo fronte la consapevolezza quello che ci stai dicendo tu che io stesso non sapevo non conoscevo assolutamente ci aiuta a utilizzare lo strumento digitale che ci permette di fare infinite cose in maniera più corretta in maniera da non da non trovarci nella situazione in cui lo stesso strumento ci si ritorce contro un po' come un boomerang quindi da una parte abbiamo per esempio Arlo che permette di registrare in cloud che ti manda tutti i videini che forse li puoi anche condividere facilmente almeno il mio amico mi ha mandato con un click su whatsapp il video registrato dalla sua Arlo dell'uccellino quindi voglio dire da una parte c'è una facilità estrema dall'altra parte ci sono comunque c'è un livello di regole del paese nel quale vai a utilizzare questi strumenti ed è importante conoscerle chiudiamo con un'indicazione su dove trovare queste cose perché o chiamo Alessandro Bari e lui mi dice tutto oppure dove si può andare un essere umano normale a documentarsi in maniera semplice senza passarci la vita per capire da una parte quali sistemi su quali sistemi ci si può orientare o quali sono i professionisti da contattare per mettere in sicurezza la propria casa e dall'altra se si vuole procedere in maniera autonoma qual è la normativa o quali sono delle linee guida sull'utilizzo di questi strumenti c'è un luogo online che ci puoi consigliare? Allora per quanto riguarda le linee guida c'è il codice c'è proprio il sito del garante della privacy con tutti i link del codice della privacy eccetera diciamo che non è poi così chiaro quindi se uno vuole andarsi a vedere per capire cosa deve fare cosa non deve fare per evitare le multe è meglio che si rivolge a uno specialista in genere se vai da un fornitore di sistemi professionali video hanno sempre all'interno uno specialista che riguarda la privacy che generalmente fa i corsi agli installatori oppure ti rivolgi direttamente all'installatore allora per sapere che cosa come proteggere casa che cosa è meglio mettere come prodotto per proteggere casa video allarme eccetera devi rivolgerti necessariamente a un installatore oppure per acquistare il fai da te diciamo che al di sotto di Arlo io non piatterei niente perché perché sono tutte cose che funzionano una settimana sì e l'altra no sì confermo il pieno io pure ci sono cascato la telecamera che ho ormai è staccata non la uso perché non funziona cioè ti fai impazzire quindi sì sì assolutamente nella migliore delle ipotesi guarda io ne ho testate diverse una a un certo punto si agganciava si sganciava la pecca è che ogni volta che lo faceva faceva un bip e ce l'avevo in casa a un certo punto di notte sentivo cinguettare niente diciamo che al di sotto di questo standard qua che è un buono standard quello di Arlo non starei per il file per il file da te Arlo lo acquisti anche su Amazon lo acquisti se non nei centri specializzati oddio centri specializzati lo trovi anche da da Media World il mio amico l'ha comprato da Media World in offerta sì 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 quindi lo trovi anche in questi posti qua o da Amazon quindi lì puoi anche piazzare il link su Amazon io consiglio ovviamente consiglio la versione Pro di Arlo rispetto a quella normale che ha anche la sirena interna sì sì un suggerimento ecco se prendete la Pro con la sirena interna la base vi consiglio di installarla sopra un armadio quindi nascosta non in vista perché le sirenette dentro casa devono essere sempre nascoste perché il suono rimbomba confonde ma non è visibile perché ovviamente il ladro cercherà di spaccarla fantastico se la piazzate sopra un armadio è meglio grazie mille Alessandro e alla prossima grazie a te ciao bello siamo arrivati alla fine di questa puntata Alessandro è stato un grande come sempre spero di avervi dato degli input stimolanti su come organizzare la difesa dei vostri ambienti lavorativi molte volte chi lavora con il digital lavora in casa e allora proteggiamo contemporaneamente casa ufficio anche lì ci può essere un'ottimizzazione dal punto di vista economico nella protezione contemporanea di casa e ufficio e se avete qualsiasi dubbio se volete dare un'occhiata a queste Arlo che io stesso penso di acquistare presto vi metto il link come sempre nelle note dell'episodio ma voglio ringraziare oltre ad Alessandro che ci ha condiviso tutte queste informazioni anche gli altri compagni di Mastermind e gli altri finanziatori di strategia digitale per noi è il modo di proteggere quello a cui teniamo e anche investire in esso e allora tanti finanziatori ogni mese investono in questo podcast investono fisicamente finanziariamente versando da un dollaro a 300 500 dollari ma anche investono a livello intellettuale lasciando delle recensioni molto belle sul nostro podcast ne voglio leggere una di Mara che è finanziatrice di strategia digitale da poco e che ha lasciato una bellissima recensione su iTunes dicendo podcast di valore 5 stellette seguo strategia digitale da pochi mesi è stata una piacevole sorpresa il conduttore il suo entusiasmo il valore della sua esperienza la passione che trasmette insieme all'umiltà nel porgersi ai suoi ascoltatori mi ha trasmesso curiosità e volontà di usare il podcast come mezzo di comunicazione da una voce sconosciuta di podcaster è diventato un'interazione continua grazie al suo canale telegram con la sua trasmissione e ai suoi genuini videomessaggi all'interazione e cura continua e costante dei suoi sostenitori creando una community che cresce ogni giorno trasmettendo l'amore per la comunicazione diretta e immediata dei podcast la sua esperienza nel business online complimenti Giulio grazie mille Mara per la tua recensione complimenti a te per aver avviato il tuo podcast segnalalo mandami un bel link su telegram così che lo possa girare agli ascoltatori di strategia digitale e soprattutto grazie a tutti coloro che vogliono lasciare le loro recensioni raccontando in che modo strategia digitale vi è utile per il vostro business attraverso il mondo digitale grazie anche a Sara Veltri coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille ragazzi e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi